Sfabbricidi, Eternit e altro materiale di risulta accatastato per terra, accanto ai cassonetti della spazzatura, a dare il benvenuto a Gibilabib. Si presenta così una delle periferie della città, a pochi metri dal centro abitato, nelle vicinanze dell'incrocio che porta in contrada Santa Lucia. Materiale nocivo per i residenti della zona e non solo, visto che le fibre da amianto si disperdono nell'aria, provocando danni alla salute. E mentre l'amministrazione comunale cerca di incrementare la percentuale di raccolta differenziata in città, le discariche a cielo aperto continuano a proliferare, a dispetto delle disposizioni di legge e delle ordinanze emesse dal sindaco. Pochi metri dopo la discarica che dà il benvenuto a Gibilabib, troviamo infatti l'ormai storico immondezzaio. Anche qui servizi igienici dismessi, materassi, materiale di risulta, copertoni e l'immancabile amianto ridotto a frantumi la fanno da padrone, deturpando l'ambiente circostante. Una strada, quella di Gibilabib, difficile da percorrere. A causa del manto stradale è ormai ridotto un vero e proprio colabbrodo, dove le macchine sono costrette allo slalom per evitare continui avvallamenti e buche. E mentre in periferia succede questo, in città la situazione non è molto diversa. La discarica di via San Calogero, ribattezzato l'angolo della vergogna, si sta riformando. Tre bidè abbandonati dinanzi il cangello fanno bella mostra di sé. Una situazione insostenibile per gli abitanti del quartiere. Stanchi di vedere continuamente i sacchi della spazzatura e non solo abbandonati nell'angolo, a pochi passi dalle loro case. Che si chiedono increduli a cosa servono le telecamere installate e se i cittadini impuniti continuano a non rispettare le regole. C'è anche chi sta pensando di intraprendere un'azione legale per vedere tutelati i propri diritti. A ciò si aggiunge il cattivo stato del manto stradale, dove molte basole sono saltate, rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni e dei mezzi. Un angolo che doveva rinascere grazie al progetto di riqualificazione nell'ambito del bilancio partecipativo attraverso un murales realizzato dall'artista Tinaldisi con la collaborazione di altri artisti di Piazza Colori che dopo anni stenta ancora a partire. Un progetto, così come ci ha detto telefonicamente Tinaldisi, che ci ha segnalato l'ennesimo disservizio, non ha senso realizzare se la via San Calogero continua ad essere lasciata al degrado e all'incuria.